Volete dei giochi scontati fino al 99%? O li preferite proprio gratis? Iscrivetevi al canale Telegram in descrizione, seguite il video per aggiornamenti Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo vlog Io sono Boom e oggi parleremo di un canale Telegram che ha iniziato un mio amico Vende giochi scontati fino al 99% Sono che di Steam e a volte fa anche dei giveaway, le Giva Iscrivetevi al suo canale Telegram se vi interessa Link in the description Video di CSGO, si adesso lo faccio, finisco di fare il vlog, lo registro subito Ok? Non è magnifico? Sono due giorni che pianifichi un vlog e poi ti dimentichi tutto quello che dovevi fare Sono entrato in una community in cui c'è anche Virus e il ragazzo con cui sto facendo 2Q ultimamente E' scarso però non glielo dite Mi sto trovando molto bene, ci sono persone molto gentili che effettivamente mi aiutano E ci aiutiamo tutti quanti a vicenda Se vuoi entrare a far parte della community puoi iscriverti al canale in descrizione Ti porterà la fascia 3 il founder Pageco Contatta lui e chiedigli informazioni Io lo chiamo Pageco Io dovrei fare anche i compiti per la scuola, quindi non li farò Ah, volevo raccontarvi, avete presente quando vi ho detto nello scorso vlog che volevo partecipare a una competizione per andare a fare una gara con la scuola E' saltato tutto Ed è successo per un motivo totalmente stupido Non so se ve lo racconto, ve lo racconto? No dai, non ve lo racconto Oppure sì Facciamo così Vi racconto che cosa è successo in live Non mia, forse di Virus o forse di qualcun altro Chi lo sa? Un giorno di questi video di andare in una live ve lo faccio sapere In descrizione c'è un secondo canale Telegram dove potete iscrivervi e vedere quando o io oppure un altro della comunità pubblico un video E' molto comodo usare Telegram, anche perché è molto meglio di Whatsapp Se volessimo definire Telegram in poche parole è un Whatsapp più mille Bene, ho detto tutto Se vi interessano i montaggi di doll oppure i video di CSGO potete sempre iscrivermi al mio canale E lasciare un like al video, se volete Da Boom è tutto, ciao Ciao